Eccoci tornati in studio, allora andiamo a vedere quelli che sono i titoli principali per quel che riguarda la stampa telematica, la stampa online, anche perché anche qui si dividono tra la questione dell'acqua e quella della politica con le candidature alle prossime elezioni sia politiche che regionali. Vediamo ad esempio il titolo principale per quello che riguarda il quotidiano cimonline.it che sceglie l'acqua come apertura, idrico ad Acea, sinistra ecologia e libertà, una sgradevole fuga in avanti, questo è il titolo, dura la posizione del partito di Luciani nel commentare le parole del primo cittadino sulla gestione del settore, l'acqua deve rimanere pubblica, la replica di T-Day, non ci sarà alcuna privatizzazione, questo è quanto scrive cimonline.it. Vediamo invece che cosa propone bignotizie.it che invece sceglie la politica come argomento principale, Moscherini in corsa per il Senato, questo il titolo, l'ex sindaco è stato candidato da Fratelli d'Italia ed è quarto nella lista, possibile corsa anche per la regione, Leonardo Roscioni al numero 15 della lista per la Camera, Collegio Lazio 1, questo è quanto scrive appunto bignotizie.it.it. Vediamo invece TRC Giornale che invece al contrario sceglie l'acqua come argomento d'apertura, acqua da Acea, sinistra ecologia e libertà, sente puzza di bruciato, questo è il titolo per quel che riguarda il quotidiano, TRC Giornale.it. Dunque c'è questa presa di posizione appunto del partito di sinistra ecologia e libertà per quel che riguarda questa questione dell'acqua, una fuga in avanti, così appunto abbiamo visto, è stata definita dal segretario, dalla segreteria del partito di vendola, che non è nuovo appunto a queste prese di posizioni che si distinguono rispetto alla maggioranza, già su altri argomenti appunto c'era stata questa presa di posizione da parte del partito di Nichi Vendola che si era distinto da quanto aveva detto invece il sindaco Piatti di Dei o comunque anche parte della maggioranza, prima fra tutti naturalmente del partito democratico, anche su altri argomenti, dicevamo come ad esempio quello del Bosco Enel, un altro argomento che aveva creato qualche mal di pancia all'interno della maggioranza che governa la città. E poi c'è questa questione invece per quel che concerne l'acqua, argomento peraltro molto delicato questo sull'acqua perché sinistra ecologia e libertà, in effetti si è sempre detta contraria al passaggio ad Acea, Ato 2 e quindi adesso invece arriva questa apertura da parte del sindaco Tidei dove sostanzialmente era andata a rispondere a una sorta di invito quasi della stessa Acea che aveva detto che poteva gestire anche la tratta dell'oriolo e quindi questo avrebbe comportato un risparmio secondo Tidei delle bollette per gli utenti ma soprattutto avrebbe comportato un risparmio nelle casse del comune, questa l'opinione di Tidei ma su questo però come detto sinistra ecologia e libertà non la vede nella stessa maniera, vorrebbe appunto che comunque la gestione del settore rimanesse completamente pubblica anche perché c'è stato un referendum molto chiaro che è stato detto e che è stato deciso dagli italiani tutti con una percentuale altissima peraltro che volevano che l'acqua restasse assolutamente pubblica e quindi si profila questo braccio di ferro. Noi stiamo cercando di metterci in contatto con un esponente di sinistra ecologia e libertà, dovevamo sentire Ismaele De Crescenzo ma c'è qualche problema sulla linea telefonica proprio per parlare di questo argomento, nel frattempo che la regia cerca di mettersi in contatto noi andiamo avanti comunque con la nostra rassegna stampa andando a vedere appunto quelli che sono gli altri titoli importanti dei quotidiani online. Vediamo subito appunto quelli di CivoOnline.it che titola poi sulla politica, troviamo infatti le notizie che riguardano le elezioni, anche Roscioni in corsa per la Camera, questo è l'altro titolo che troviamo su CivoOnline.it l'ex assessore al quindicesimo posto nella lista Lazio 1 di Fratelli d'Italia e poi Moscherini candidato al Senato e alla Regione, l'ex primo cittadino correrà per la lista del partito Fratelli d'Italia in quarta posizione oltre alla corsa per Palazzo Madama il leader dell'opposizione tenterà anche l'elezione alla Pisana questo è quanto scrive il quotidiano CivoOnline.it vediamo BigNotizie.it che invece aveva aperto proprio con questa notizia di Moscherini candidato poi troviamo anche la questione acqua naturalmente con Sinistra Ecologia e Libertà che chiude la porta ad Acea ma prima vedete sopra c'è l'intervento anche di Mirko Mecozzi il quale dice che l'intervento della Acea sarebbe un affare, non rinunceremmo all'acqua pubblica questa è la presa di posizione di Mecozzi, Lungarini e Cacciapuoti che riprendono le tesi del sindaco e conti alla mano affermano che per il comune per gli utenti Civitavecchisi sarebbe solo un bel risparmio invece poi appunto CSL che come vedete dal titolo di BigNotizie.it chiude la porta ad Acea secco intervento della segreteria dopo la notizia della richiesta di affidamento provvisorio di Mignone Oriolo e la disponibilità del sindaco Tidei solo un maldestro tentativo e l'ennesima fuga in avanti del primo cittadino così la definita Sinistra Ecologia e Libertà vediamo anche trcgiornale.it sempre per quello che riguarda naturalmente le altre notizie qui abbiamo visto che l'apertura invece era proprio su questa storia dell'acqua vediamo invece quelli che sono gli altri titoli con ancora l'acqua ad Acea che l'intervento di Tidei dice la maggioranza non può vendere illusioni e poi si parla anche di crisi soprattutto per quello che riguarda anche HCS perché c'è l'intervento di Cesare Cagliazza sul tavolo la ricetta anticrisi della CGL questo il titolo scelto dal quotidiano trcgiornale.it vediamo ancora civoonline.it per quel che riguarda invece la pagina dello sport perché c'è appunto questa notizia del calcio con Folgori che addirittura dice fra due anni in serie C il Civitavecchia Calcio perde al fattore intanto 1-0 contro l'Isola Liri nella terza di ritorno il patron dice i tifosi si ricordino che sono arrivato solo il 7 dicembre l'obiettivo immediato è la sopravvivenza poi arriverà il rilancio in categorie più consone da mercoledì mattina Massimo De Santis tornerà per darci una mano che ha poi aggiunto il presidente del Civitavecchia Calcio Folgori poi naturalmente ci sono anche le notizie che riguardano gli altri sport ma su questo possiamo proporvi appunto un servizio di descrizione di tutti quelli che sono stati gli appuntamenti del weekend sportivo l'ultimo fine settimana naturalmente in campo nel weekend anche altri sport il Pirgi Basket in serie D maschile è tornato alla vittoria strapazzando in casa con un netto 83 a 63 il Polaris i Sanseverini rimangono al terzo posto in classifica eccellente vittoria invece in attore femminile sempre di basket per la Valentino Auto Santa Marinella che al Palla de Angeles ha battuto 65 a 63 la prima in classifica futura Brindisi per le ragazze di Presetti una vittoria preziosa sia in termini di morale che di classifica scesi in campo anche i Pirati Civitavecchia per Locke in Line la partita interna contro Bari si è disputata a Roma per i problemi legati al Palla Mercuri a vincere i Pugliesi con un netto 8 a 2 sabato in campo invece la Palla Mano Flavioni Maschile in casa della prima in classifica Pescara vittoriosi gli Abruzzesi con un netto 32 a 18 frutto di una supermazia in tutti i settori chiude il programma il calcio a 5 femminile con la Tirena del tecnico Santoro che ha perso 3 a 2 fuori casa contro l'ultima della classe il Valle dei Casali questa dunque è la giornata per quello che riguarda gli altri sport la domenica per quello che riguarda gli altri sport noi stiamo ancora tentando appunto di collegarci con qualcuno di Sinistra Ecologia e Libertà ma evidentemente insomma hanno qualche problema tecnico oppure non so forse non vogliono scoprirsi più di tanto su questa vicenda non credo comunque noi ci proveremo intanto andiamo avanti però con la nostra rassegna stampa questa volta andando a dare invece un'occhiata alla stampa nazionale abbiamo visto infatti tutto quello che c'era di più importante sulla stampa online locale vediamo invece quella nazionale dove invece c'è la politica assolutamente in primo piano dopo la chiusura della consegna delle liste ieri sera alle 20 tutti i giornali questa mattina titolano su questo caos PDL così lo definiscono con il cosiddetto caso Cosentino ad esempio l'apertura per la Repubblica dove si parla appunto di questa vicenda di Cosentino Cosentino non sarà in lista PDL caos giallo sulle firme sparite la rabbia del deputato Silvio me ha tradito ha detto razzi intanto candidati in Abruzzo rivolta su Scilipoti stessa apertura anche sul Corriere della Sera caos PDL l'inseguimento a Cosentino fai il bravo e consegnaci le liste questo è il titolo del Corriere della Sera l'ex sottosegretario che non sarà candidato raggiunto a Caserta da Verdini e Nitto Palma apre con questa notizia anche la stampa Cosentino escluso dal PDL spariscono le liste Scilipoti e Razzi le due cambiali del Cavaliere niente oggettine ma la nomenclatura resiste questo il titolo della stampa scambi di accuse con l'ex sottosegretario Senato Berlusconi capolista in tutte le regioni alle 12 la conferenza stampa del deputato vince Alfano il RAS Campano non sarà ricandidato in Liguria come corre Minzolini invece in Abruzzo spunta Razzi apertura su questo argomento anche per il messaggero Cosentino fuori dalla lista PDL nel caos io in galera ma il partito rischia questo è quanto dice Cosentino l'ex sottosegretario ha detto sacrificato per i sondaggi giallo sulla fuga con i documenti l'ultimo disperato blitz di Cosentino ma i suoi gli voltano le spalle sul messaggero si parla poi anche della caduta e le amicizie pericolose di Nicco Americano così veniva definito Verdini la spunta fuori anche a Milanese Minzolini capolista del PDL al Senato in Liguria vediamo invece quelle che sono le altre notizie restando ancora appunto sulla pagina del messaggero ancora la politica con Monti che attacca con i partiti non si portano in fondo le riforme incisive il Financial Times boccia il Premier e poi ancora si parla di politica con questa volta l'intervento di Bersani che dice ingroia fa vincere la destra il PDL è grottesco e scandaloso sulle liste Berlusconi come Schettino ha detto Bersani chi prende i voti governa il Cavaliere è un capitano che ha portato la nave sugli scogli vediamo invece le altre notizie per quello che riguarda appunto la Repubblica con la crisi la crisi che ci riporta indietro di 27 anni reddito pro capite come nel 1986 studio di rete e imprese nel 2012 la ricchezza disponibile reale degli italiani è calata del 4,8% a 17.337 euro e calerà a 16.955 euro quest'anno sprofondano anche i consumi indietro di 15 anni negli ultimi 12 mesi hanno chiuso 100.000 aziende questo è quanto scrive il quotidiano La Repubblica e poi si parla di Lombardia con l'ennesimo scandalo giudiziario perché ci sono stati 16 arresti per gli appalti Ater coinvolta una società in orbita compagnia delle opere questo appunto è quanto scrive il quotidiano La Repubblica vediamo invece le altre notizie per ciò che concerne il Corriere della Sera si parla di politica naturalmente vite di Razzi e Scilipoti acrobati del vitalizio questo è il titolo scelto dal Corriere della Sera per parlare delle candidature del PDL in Abruzzo e Calabria Razzi spiegò la sua svolta se no per 10 giorni perdevo i soldi quindi questo è quanto ha detto quanto scrive appunto il Corriere della Sera poi si parla anche di questa foto dove si vede Michelle Obama che lancia un'occhiataccia questo appunto è il titolo proprio del Corriere della Sera l'occhiataccia di Michelle alla cena ufficiale la First Lady pare infastidita da John Boehner lo speaker della Camera questo è quanto scrive il quotidiano il Corriere della Sera vediamo invece la stampa con gli altri titoli questo che riguarda appunto la crisi la crisi nel mondo del lavoro nel 2012 nel mondo persi 4 milioni di posti di lavoro pesano le misure di austerity il quadro dell'Interland la Burr Organization senza lavoro quest'anno salgono a 202 milioni di unità dall'Europa la crisi ha contagiato l'intero pianeta e poi si parla anche di Bibi un muro sul Golan per vincere le elezioni Netanyahu è il favorito il Premier in pole position per il voto di oggi ma l'economia preoccupa più della vicina Siria ma della popolazione drusa quasi nessuno va alle urne questo l'altro titolo del quotidiano la stampa e anche qui abbiamo visto naturalmente tutti i titoli più importanti gli argomenti principali riportati sulla stampa nazionale adesso torniamo però appunto a questioni di carattere locale con con appunto l'approfondimento che abbiamo deciso di fare per quello che riguarda l'acqua l'acqua pubblica o comunque l'acqua adacea come vorrebbe T-Day perché questo argomento sta creando appunto l'ennesimo problema all'interno della maggioranza e ancora una volta vede il sindaco T-Day da una parte il PD e dall'altra sinistra ecologia e libertà volevamo sentire qualche qualche consigliere insomma qualche esponente di sinistra ecologia e libertà ma nessuno ci ha risposto al telefono allora noi approfondiamo comunque questo argomento lo facciamo con una nostra giornalista con Sonia Bertino che ha curato appunto il servizio che avete visto nella prima parte e che potete leggere naturalmente sulla pagina della provincia di questa mattina Sonia ci sei? Buongiorno Stefano Buongiorno a te e grazie innanzitutto per la tua disponibilità anche se ti abbiamo usato un po' come ruota di scorta questa mattina mi perdonerai di questo va bene non fa niente senti Sonia no è perché appunto sinistra ecologia e libertà non risponde non evidentemente non so se ha qualche problema tu come la vedi che hai seguito questa vicenda perché questo è l'ennesimo l'ennesima divisione in effetti che c'è all'interno della maggioranza tra sinistra ecologia e libertà e il PD e T-Day sì effettivamente basta ricordare un attimino quello che è successo anche con HTS dove il sindaco aveva più volte annunciato la vendita parziale o totale dell'azienda della società e sinistra ecologia e libertà con il vice sindaco Enrico Luciani aveva ribadito che i servizi devono rimanere pubblici l'abbiamo visto ancora una volta con le dimissioni rimesse al partito dell'assessore Sergio Serpente per un mancato coinvolgimento del suo assessorato in questioni lavorative come appunto HCS e adesso lo rivediamo di nuovo con l'acqua credo che se nessuno in questo momento risponda al telefono spero perché stiano cercando di parlare e confrontarsi loro all'interno della maggioranza infatti Sinistra Ecologia e Libertà aveva preso come ha detto ieri dai giornali l'intenzione di T-Day di voler affidare la gestione del servizio idrico ad AGEA in cambio di lavori di riqualificazione al bacino di Monteugiano e dell'Oriolo anche se T-Day aveva premesso che questa gestione non avrebbe comportato la privatizzazione del servizio dell'acqua in quanto AGEA era disposta a concedere al Comune la riscossione delle bollette dell'acqua e quindi il Comune l'avrebbe tra virgolette fatta da padrone una decisione comunque che verrà presa in maggioranza come T-Day stesso ieri ha tenuto a precisare dicendo io accetterei immediatamente la proposta fatta da AGEA perché aiuterebbe tantissimo il Comune a far risparmiare denaro pubblico che pagano ovviamente i cittadini però faccio parte di una maggioranza e quindi sarà la maggioranza a decidere per quanto riguarda poi la paura di Sinistra Ecologia e Libertà che così facendo questo sia un primo passo verso la privatizzazione dell'acqua T-Day ha tenuto a precisare che comunque il Comune sta preparando un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che obbligherebbe appunto il Comune di Civitavecchia a far parte di Ato 2 sulla questione erano intervenuti poi ieri nel tardo pomeriggio anche l'assessore Mecotti il consigliere Lungarini che avevano preso parte all'incontro con AGEA di qualche settimana fa incontro dove hanno precisato avevano chiesto semplicemente ad AGEA il pagamento dell'allaccio abusivo che era stato scoperto in estate infatti se ricordiamo e ti ricordi Stefano quest'estate era stato scoperto un allaccio abusivo nella rete idrica cittadina da parte di AGEA e appunto il Comune è andato a chiedere la riscossione di questi soldi poi hanno convenuto insieme alla richiesta di T-Day dei 2 milioni per ristrutturare l'intero servizio idrico AGEA ha fatto una controfferta quindi tutto sarebbe nato da lì e non è stata una richiesta partita in maniera volontaria come hanno cercato di far intendere dalla maggioranza dal PD soprattutto ma è stato un caso un caso di cui adesso dovranno parlarne domani pomeriggio insieme agli altri assessori e consiglieri Ecco questo volevo chiederti appunto quindi l'appuntamento adesso è per domani quando la maggioranza dovrà affrontare questo tema che comunque rispetto appunto a quanto ricordavi tu anche agli altri argomenti come ad esempio il caso tra virgolette serpente poi la questione del Bosco Enel questo forse è un pochino più delicato Sì molto più delicato perché ricordiamolo c'è stato un referendum popolare dove i cittadini si sono espressi per mantenere pubblica l'acqua e quindi adesso si dovrebbe mantenere fede anche a quanto era stato scritto in quel programma elettorale ricordiamolo un programma che hanno firmato tutti i partiti della maggioranza e che quindi adesso gli stessi partiti chiedono di rispettare Quindi domani che cosa potrebbe succedere in questa riunione secondo te? Guarda io spero soltanto che chiariscano una volta per tutte le proprie posizioni è che qualsiasi scelta venga fatta per la cività vecchia venga fatta una scelta appunto per i cittadini e non come temono da Sinistra Ecologia e Libertà per interessi personali o di partito però c'è questo caso politico che indubbiamente nasce e che a questo punto potrebbe portare anche come dire ad una ad ulteriori problemi e tutto questo peraltro a ridosso delle elezioni sia regionali che politiche dove corrono esponenti di entrambi i partiti anche locali guarda questa è la stessa domanda che si è posta ieri nel comunicato stampa Sinistra Ecologia e Libertà che non riesce a capire per quale motivo questo argomento sia uscito proprio adesso in un momento in cui stanno avvenendo dei cambi di casacca magari per cercare di entraffar parte della maggioranza di cività vecchia e dove corrono delle voci che già vedono Sinistra Ecologia e Libertà fuori da questa maggioranza credo che sia un'uscita che Sinistra Ecologia e Libertà non gradirebbe tanto quindi presumo che proprio per cercare di mantenere ben saldo il rapporto arriveranno ad un compromesso Bene Sonia grazie come sempre preziosa e precisa e naturalmente anche molto disponibile questa mattina ad essere nostra ospite grazie davvero Sonia buon lavoro buon lavoro a te Stefano e questo diciamo era l'argomento che avremmo appunto voluto affrontare con qualche esponente di Sinistra Ecologia e Libertà la nostra Sonia Bertino però davvero è stata molto precisa e puntuale nel ricostruire tutto quanto è successo nella giornata di ieri e anche nel diciamo ipotizzare quello che potrebbe succedere invece da qui in avanti su questo importante tema dell'acqua io a questo punto mi fermo qui grazie naturalmente per averci seguito e vi do appuntamento domani mattina sempre alle 10.30 qui su Provincia TV grazie ancora per essere stati con noi buon proseguimento di giornata con i nostri programmi grazie a tutti 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 grazie a tutti